Io racconto le storie, non è un mestiere mio la politica. Di fine lei l'ha definito un democratico di destra? La sensazione è questa, che sia un uomo chiaramente a destra, ma che voglia una destra moderna e libertaria. E quindi sarebbe fatto positivo che anche in Italia ci fosse una destra moderna e libertaria. Ma lei lo vedrebbe bene a capo di una coalizione in alternativa a quella con Berlusconi? Io credo che ognuno debba fare il mestiere suo, quindi fine che non muove a destra, lo vedrebbe bene a capo della destra. Se voi invece lo vedete bene a capo della sinistra, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra in questo paese. Io mi pongo il problema se la sinistra italiana sia di destra o di sinistra. Quando voi cacciate, mettete allo schermo Veronesi, quando voi siete contro le fabbriche, volete chiudere le fabbriche, vi pensate che la green economy vi risolve tutto. Siete voi i portatori dei valori della destra, i portatori della conservazione, questo mi crea problemi. Io sono ancora iscritto al Partito Democratico, però voterò chiunque mi metterete davanti, perché il resto è coglione e così, voto per la squadra mia, quindi voterò. Ma c'è un leader che potrebbe risollevare il centro-sinistra? Non lo so, Lucio Caraccio, o P.G. Battista, o Paolo Mieli, che ne so. Visto che voi D'Alema non lo volete, perché a mio avviso l'unico cervello pensante della sinistra resta Massimo D'Alema. Visto che Paolo a sinistra non lo volete, che vi posso dire? Eppiamo se Lucio Caraccio. Michi Vendola? Ecco, perfetto per perdere, perfetto per perdere, capito? Quello, ma perché me lo dovete fare incazzare a me? Quello quando ha perso il congresso al partito suo, non è che ha accettato, cioè, beh, sto qua, ma sono minoranza e lavoro, no. Quello quando ha perso il congresso al partito suo, se n'è andato, l'ha spaccato il partito, ma pretende che tutti si uniscono dietro a lui, ergo per lui, la massima unità si raggiunge solo se lui è il numero uno, il numero due lui non lo può fare, ergo si chiama narcisismo assoluto. Potremmo solo perdere con quello. Di Berlusconi che opinione ha? Certo, non è un bel presidente del Consiglio, lei che dice. E però il problema è che, a mio avviso, noi sbagliamo, se pensiamo che il male, tutto il male della democrazia italiana stia in Berlusconi. eliminato Berlusconi e abbiamo sanato la democrazia italiana. No, non è così. Berlusconi per me non è che è il prodotto di questa democrazia malata. Noi siamo usciti dalla Prima Repubblica non riuscendo a costruirne una seconda efficiente ed efficace. ancorati ancora alle nostalgie, chi la gente sa ancora se sogna di rifare la democrazia cristiana, ancorati alle nostalgie, no, della Prima Repubblica, ma ancora a quelle dello Statuto Albertino. E per questo noi abbiamo creato questo mostro che è la democrazia italiana, che è questa democrazia degenerata italiana. e questa poi ha creato Berlusconi. Ma una volta hai risolto, non è che hai eliminato Berlusconi, tu hai risolto tutto. Perché poi ci sono infiniti aspetti berlusconiani, che sono speculari a Berlusconi, che stanno anche nella sinistra. E quando si parla del Bavaglio, la realtà vera è che qui non è che c'è qualcuno a mettere Bavaglio alla stampa italiana, la realtà vera è che non abbiamo mai avuto una stampa libera. Non imbarazza, per esempio, pubblicare con Mondatori, che è di Berlusconi? Ma io pubblico sia con Mondatori, sia con la terza, sia col gruppo L'Espresso, perché io sono collaboratore dell'IMES. Quindi io pubblico, scrivo i miei testi e li vendo a chi li pubblica. Sì dal caso, inoltre, che a me, quelli da sinistra, non mi hanno voluto. Chi? Allora, te lo dico io, Feltrinelli, per esempio, a me non mi ha mai voluto, manco mi rispondevano al telefono. Ma secondo te io che dovevo fare? Perché Feltrinelli si pubblica solo i libri della sinistra fighetta. A me, guarda, non mi fa parlare tra i tre o della Tantini, eccetera, ma a me tra i tre non mi ci hanno mai chiamato, quelli là. Chiamano, pubblicano solo la sinistra fighetta. Io che dovevo fare, secondo te? I libri di Gnale li dovevo stampare col ciclostile? Non so se è chiara la questione. Io oserei dire che se debbo fare un discorso sulla politica italiana, le vorrei dire, guardi, qui bisognerebbe recuperare. Ah, prima di tutto un po' di stile nella politica. Perché se lei guarda come si parlano sui giornali o come si parlano fra di loro, c'è più stile dentro il bar della Fulgorcavi che nella politica italiana. è proprio un vecerume completo e totale. C'è da dire, fermate, se te bussa un politico oggi alla porta di casa, c'è da dire a te o me, fermate, non lo fai entrare, perché c'è sozza a casa. Mettere al primo posto gli interessi generali e complessivi. Questo in Italia non lo fa nessuno oggi. Berlusconi mette al primo posto l'azienda sua e Gansi sua e tutti i tasti mettono lo stesso, Vendola, mette al primo posto il suo narcisismo. Io devo essere io alla ipotesi di vincere. Ha capito? E secondo lei perché D'Alema no? Le linee di D'Alema, a me sono sempre sembrato in quella logica generale. D'Alema è l'unico che ha sempre avuto capacità strategica di elaborazione. Non è un narciso pure lui, ministro degli esteri. No, no, secondo me no. Questo è il suo parere, se lo venga. Mi pare molto più narciso chi non ha una visione politica e pretende di fare altre cose. Quello c'è un disegno politico complessivo. Cioè al di là di D'Alema lei non vede altri leader che possano risolvere? Sì. Qua d'oltre te lo devo dire. Non ti piace e fa come ti pare. Cioè al di là di D'Alema lei non vede altri leader che possano risolvere. Cioè al di là di D'Alema lei non vede altri leader che possano risolvere.